eva mozes cora da suiz ho imparato il perdono una storia di liberazione che forse si dice il nostro incontro viene documentato da una truppa televisiva che si muove timidamente intorno a noi la presenza di cameraman e tecnici del suono rende piuttosto anomala l'atmosfera di un momento così intenso se pongo domande critiche un produttore olandese mi zittisce con fermezza e il dottor Munch interrompe subito la conversazione un addetto si lamenta della cattiva illuminazione nel frattempo Munch lascia più volte la stanza per procurarmi dei cuscini tutto questo non corrisponde a quanto mi aspettava la notte prima non avevo dormito a pari del controllo perché mi porta così tanti cuscini? voglio essere sicuro che sia comodo una zizza che si preoccupa di queste cose non ha alcun senso mi sento impaurito e quasi non riesco a parlare proprio ora che devo cominciare a interrogarlo mi sento del tutto impreparato e inizio a fare domande stupide un po' di convenevoli con un medico di Auschwitz che ha visto morire migliaia di persone eppure non posso fare diversamente sia per la presenza del produttore olandese sia perché avevo già stabilito di cominciare in modo innocuo e di fare solo alla fine domande scomode come cosa sa degli esperimenti che venivano fatti a Auschwitz? oppure cosa ha fatto alla fine della guerra? intanto però le chiedo quali sono i suoi hobby perché diavolo mi interessa nei passatepi di una sgara delle SS eppure voglio provare a capire la sua mentalità svelarne il meccanismo faccia a faccia mi piace leggere risponde cercare i funghi il tono è molto gentile io sono incredulo non capisco dov'è il mostro? il diavolo? come ha vissuto a Auschwitz? le chiedo con la bocca asciutta a Auschwitz dice sottovoce la sera tutte le guardie erano ubriache l'unica persona vicina a me che rimanesse sobria era Mengele era anche l'unico con cui potevo parlare però non mi ha raccontato niente degli esperimenti era tutto top secret secondo lui io e Miriam presto o tardi saremmo stato uccise e anzi gli esperimenti ci avevano preservato da una morte immediata Mengele le aveva detto che i gemelli dovevano esserli grati per questo non posso più aspettare non mi ha risposto a risposto a dire molto